Ancora in Piazza Syntagma davanti al Parlamento con una giovane studenti di economia per capire che cos'è poi questo debito greco. Ancora in Piazza Syntagma davanti al Piazza Syntagma davanti al Piazza Syntagma. Ancora in Piazza Syntagma davanti al Piazza Syntagma davanti al Piazza Syntagma. Ancora in Piazza Syntagma davanti al Piazza Syntagma davanti al Piazza Syntagma davanti al Piazza Syntagma. Ancora in Piazza Syntagma davanti al Piazza Syntagma davanti al Piazza Syntagma. Ancora in Piazza Syntagma davanti al Piazza Syntagma davanti al Piazza Syntagma. Ancora in Piazza Syntagma davanti al 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 Piazza Syntagma dav è su questa nuova misura del governo. Quali credo sia la più difficile parte di questa nuova misura? La cosa difficile per noi? La cosa difficile per te? Molte cose. Questa è una situazione che non avremo nessuna possibilità di decidere cosa. La governazione sarà in un'accordo in cui la prossima governazione sarà completamente povera. Abbiamo già presentato la nostra Costituzione un scopo di paper. Ci sono numerosi constituzionali... ...che sono scrittele nella nostra Costituzione. E perché ci saranno obliati a seguire questo, no a qualsiasi parte del governo, Qual'è il punto di nessun democratico? Anche ora sappiamo che questo è un governo tecnocratico, nessuno ha electo queste persone, ma questo rende il prossimo tempo, il tutto questo building è totalmente decorativo.